Gentili ascoltatori di Riviera24, oggi parliamo di medicina e lo facciamo con il dottor Raffaello Pagani, specialista in chirurgia vascolare. Benvenuto dottore. Grazie a voi. Parliamo di una malattia in particolare dell'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, l'ho letto per non sbagliare. Sì, parliamo di una malattia nuova vascolare che entra nel numero delle nuove malattie vascolari che fino all'anno 2009 anche noi specialisti del settore non conoscevamo bene e si tratta appunto della CCSVI che è l'acronimo di insufficienza venosa cronica cerebrospinale. È una malattia che risale al periodo embrionario, precisamente nello sviluppo dell'embrione al terzo o quinto mese di questo cammino embriogenetico. Si formano anche le vene di scarico del cervello e del midollo spinale e queste nascono malformate. Quindi abbiamo a che fare con una nuova malattia che appunto è stata presentata al mondo nel 2009, mondo scientifico, in due congressi internazionali dell'Unione International Flebology, dove il comitato scientifico ha accettato questa nuova malattia e l'ha etichettata come malattia risalente al periodo cosiddetto trunculare, cioè dell'embriogenesi, terzo o quinto mese di questo cammino. Quindi abbiamo a che fare con un discorso di difficoltoso o di bloccato scarico dal cervello verso il cuore del circolo venoso. Quindi non parliamo delle artere che portano il sangue buono, ricco di ossigeno e glucosa al cervello, ma parliamo di vene che dovrebbero portare via anidride carbonica radicale libera e quindi materiale, chiamiamolo spazzatura, per le cellule nervose e devono riportarle al cuore. In genere hanno calcolato che con studi di risonanza magnetica nucleare il cuore pompa il sangue buono nelle arterie e ci impiega due secondi ad arrivare al cervello e in altrettanti due secondi le vene devono scaricare il sangue venoso ricco di scorie verso il cuore. Hanno calcolato che affetto da questa nuova malattia che si chiama appunto CCSY, due secondi sangue arteriosa arriva comunque al cervello, sei secondi, quindi un tempo molto lungo per far ritornare il sangue dal cervello al cuore per chi ha questa malattia. Naturalmente parliamo di una malattia embriogenetica, ho detto, quindi nascono bambini che hanno già questa malattia. In questi 12 anni di studio che noi facciamo abbiamo calcolato che la popolazione di bambini che nascono con questo disturbo vascolare possono andare incontro a svariati disturbi che non interessano. Infatti dottore c'è un ventaglio di patologie che derivano da questa malattia. Sì, un ventaglio di patologie che allo stato attuale anche con tante ricerche che abbiamo non ne venivamo a capo nella comprensione perché riguardano appunto la stagnanza di questo liquido spazzatura, chiamiamolo così, all'interno del cervello e nell'interno del cervello esistono anche due componenti importanti che sono l'occhio e l'orecchio interno, i quali vanno sempre chiaramente lasciati ai rispettivi specialista che sono appunto l'oculista e l'otorino, come il cervello viene lasciato allo studio del neurologo, ma quando loro hanno fatto tutti gli esami a disposizione e non ne vengono a capo della soluzione, chiedono aiuto alla circolazione, però purtroppo viene sempre chiesto quello che entra nel cervello, cioè lo studio delle arterie, misconoscendo o dimenticando o non conoscendo bene la patologia invece venosa che ripeto per la seconda volta anche noi vascolari, fino all'anno 2009 non ne sapevamo nulla. Quali sono i sintomi che si possono avvertire per capire se si è affetti da questa malattia? Allora, dicevo che se lo scarico del cervello non è quello della soluzione ideale, cioè dei due secondi, questo è ritardo, è dovuto al fatto che le vene trovano diversi ostacoli lungo il loro cammino, appunto per scaricare il sangue dal cervello al cuore. Questi ostacoli che in un secondo momento andrò a elencare sono i più diversi, però noi dobbiamo studiare come prima istanza con un esame che è innocuo, indolore e non invasivo per il paziente, che si tratta appunto dell'ecocolordople, che è un esame molto difficile e complicato anche perché deve studiare il soggetto nel collo e dalla tempia per studiare le vene intracraniche col soggetto sdraiato e nel collo e dalla tempia col soggetto eretto a 90 gradi, perché le vene cambiano. Quando abbiamo la possibilità di vedere quali sono gli ostacoli, avremo anche i vari rimedi che in questi 12 anni noi abbiamo scoperto per risolvere lo sblocco di questo intasamento del tubo di scarico, che noi chiamiamo così, del lavandino, intennendo il lavandino con il cervello e anche il cervello stesso può essere liberato. Mi parlava dei sintomi, prendendo di mira, e anche qui oggi noi non sappiamo perché il bambino che nasce, che ha questo disturbo vascolare, può andare incontro a diverse malattie che interessano appunto o il cervello, o l'occhio e l'orecchio. Parliamo di malattie neurodegenerative, parliamo che un 12% calcolato statisticamente da studi americani dove la sclerosi multipla è una malattia molto diffusa nel Nord America, Stati Uniti e Canada. Appunto, i neurologi, dal 2000 in poi collaborando con dei vascolari, hanno studiato che il 13% di questi bambini potranno contrarre a 20-40 anni la sclerosi multipla. Oggi gli stessi neurologi nordamericani che collaborano con noi vascolari, ma non solo, anche in tutto il mondo, un grande impulso l'ha dato anche gli studi cinesi, molto all'avanguardia. Parlano anche dell'interesse, del coinvolgimento delle vene nelle eventuali patologie delle altre malattie neurodegenerative che riguardano più l'anziano, che sono l'Alzheimer e il Parkinson. Ma non toccando solo le malattie neurodegenerative abbiamo anche tanti disturbi comuni di cui soffre la popolazione e la maggior parte delle volte non se ne viene a capo con la diagnosi. Parliamo anche che una buona parte di questi bambini avrà, e gli adulti chiaramente, avrà quello che è il male che affligge milioni di persone al mondo, cioè la cefalea, il mal di testa, l'emicrania. Parliamo di disturbi dell'orecchio interno, la famosa sindrome di Meniere, che riguarda gli acufeni, riguarda l'instabilità del soggetto nell'equilibrio, dei vertigini che durano anche dei giorni, delle ore intere, la perdita dell'udito non giustificata, improvvisa. E parliamo anche di un campo che è ancora parecchio sconosciuto ai relativi specialisti, e cioè il campo dell'occhio, ma parliamo di disturbi grossi dell'occhio, parliamo di diplopie, parliamo di disturbi del campo visivo, di annebbiamento della vista, di malattie della retina, del nervo ottico, quindi cose grosse, non sto parlando di disturbi della vista o del cristallino per fare due esempi che è roba di competenza dei nostri oculisti. Quindi parliamo di una svariata batteria che può interessare a largo raggio il cervello o l'occhio all'interno o presi singolarmente o anche mescolati insieme, là dove sono stati visti dai rispettivi specialisti neurologi, ottorini e oculisti e con tutti i mezzi abbondanti che hanno a disposizione, però trovando tutto nella normalità non si raccapacitano dove vengono questi disturbi e quindi chiedono aiuto alla circolazione. Purtroppo viene chiesto solo esclusivamente quello che entra nel cervello, cioè lo studio delle arterie, dimenticando invece il mondo delle vene. E quali sono le soluzioni, che fare ecco di fronte a questa malattia e alle conseguenze? Allora, prima di tutto come in tutti i campi della medicina deve essere eseguita quello che è la base, il fondamento, il pilastro della casa, cioè la diagnostica. La diagnostica deve essere vista sotto tutti gli aspetti contemplati. Ho citato prima le cocolordople, quella è la base, ma per studiare le vene come sono fatte, se sono malate o se si comportano male nel loro portare il sangue, devono essere studiati anche a livello intracranico e recentemente abbiamo fatto degli studi anche nel passaggio dal cranio al collo, dove le vene passano attraverso strutture ossee che possono comprimere le vene dall'esterno. Quindi gli ostacoli sulla vena possono essere o endoluminali, come noi diciamo, cioè all'interno del vaso stesso, possono esserci le valvole delle vene che non si aprono bene, che stoppano nel reflusso e possono essere restringimenti della vena, può essere la vena che è ipoplasica, cioè non si è sviluppata bene, oppure una buona parte di compromissione del circolo venoso dipende da ostacoli esterni alla vena che la comprimono, la schiacciano come muscoli, le stesse arterie che sono vicine alle vene, dei ligamenti, delle ossa, dei linfonodi, la stessa tiroide se è ingrossata o altre ostruzioni all'interno appunto intracranico, dove chiediamo aiuto anche alla risonanza e all'attac dei vasi sanguigni e non solo arteriosi come dicevo, ma venosi. Bene, ringraziamo il dottor Raffaello Pagani di essere stato con noi, specialista in chirurgia vascolare che ci ha parlato di questa nuova malattia, relativamente nuova patologia che si chiama insufficienza venosa cronica cerebrospinale, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.